è nato tutto da un sogno il sogno di un ragazzo diversamente disabile sì hai capito bene perché ai sogni non servono gambe per camminare ma ali per volare sostieni l'artelesia film festival il concorso internazionale del cinema sociale è da sette anni che portiamo avanti questo progetto ma ora abbiamo bisogno di te artelesia film festival un'esperienza da non perdere sono francesco da basil un ragazzo diversamente abili che ha tanta voglia di vivere e di amare la vita sostiene l'artelesia festival è un'emozione da non perdere e facciamogli insieme sosteniamo l'artelesia festival di scuole e di università ricordiamocelo sempre io ci sono voi ci siete all'artelesia festival grazie a tutti Grazie.